Ciao a tutte ragazze, allora finalmente riesco a dirarvi questo video spacchettamento, questo pacco di passione unghie mi è arrivato più o meno un mesetto fa e non l'ho ancora aperto, quindi sono stata molto brava, in realtà sì avevo tante altre cose da fare quindi non ho avuto tempo in più ci tenevo a farvi un video mentre l'aprivo e quindi ho lasciato tutto intatto, a parte appunto le dual form che ho utilizzato come avete visto nel video precedente quindi niente, le dual form ve ne ho già parlato, mi sono trovata molto bene, sono molto contenta di questo acquisto e adesso che mi si è aperta questa nuova visione sulla ricostruzione molto più velocizzata con le dual form le utilizzerò sicuramente molto allora se vi interessa vi dico il prezzo delle dual form se lo trovo così almeno intanto vi dico che tutto questo l'ho pagato 200 euro non è tanto grande il pacchettino però probabilmente ci sono tanti colori dentro adesso non mi ricordo neanche che cos'è che avessi preso adesso le dual form non le trovo ah ok 5,99 queste e dentro ce ne sono 100 pezzi poi le lime, ho preso un po' di lime e di buffer i buffer non so voi ma a me mi si rovinano subito cioè li uso una settimana e sono già da buttare via quindi insomma è solo che questi qua un pochino costano quindi non ne ho presi tantissimi aspetto ormai il Cosmo per far vedere se riesco appunto a trovarne degli stock che costino meno anche da non di marca perché tanto alla fine che se ne fregano su queste cose uno può anche stare un pochino più indietro e queste costano 1,49 euro quindi è abbastanza secondo me e poi ho preso le lime normali 100-180 perché io utilizzo solamente questa grana qua e devo dire che mi trovo bene e sono quelle classiche finalmente loro e queste costano 1,49 euro 1,49 anche questo uguale io mi trovo molto bene con queste perché avevo già detto che con queste qua da Vaili loro che sono comunque anche queste 100-180 ma sono veramente veramente molto cioè soprattutto da questa parte qua è inutilizzabile perché poi grafia tantissimo la struttura dell'unghia e quindi non si utilizza io questa parte qua non la utilizzo praticamente mai e queste invece sono molto più delicate quindi mi trovo molto meglio e ho ricomprato loro tanto alla fine lavabili non lavabili chi se ne frega alla fine ti devi trovare bene e quindi niente ho preso un po' di lime che adesso sistemerò poi andiamo a aprire e vediamo io sinceramente non mi ricordo neanche più che cosa che avessi acquistato comunque c'è un po' di roba secondo me allora qua direi che ci sono dei colori poi acqua gloss direi comunque andiamo a aprirlo così almeno vi fa vedere allora si è acqua gloss e mi è un po' dispiaciuto perché con il fatto che mi sono fatta le unghie volevo utilizzare acqua gloss però visto che era dentro al pacco l'ho detto vabbè lo utilizzo poi la prossima volta e sono andata ad utilizzare il classico non mi viene neanche il nome ultra gloss esatto invece che acqua gloss allora vediamo un po' qui ieri l'avevo aperto in un modo non mi ricordo manco più che era abbastanza marron ok allora tra l'altro ho sentito dei pareri contrastanti su questo gloss cioè alcune sul gruppo dicono che è fantastico altre dicono che si ritira quindi quello che penso io è che probabilmente col fatto che si ritira non bisogna utilizzare alcuni colori fast cioè bisogna stare attenti con i colori fast a non farli catalizzare troppo perché se noi li lasciamo troppo in lampada si auto si girano da sole e dopo i gloss che noi mettiamo sopra si auto si ritirano un po' come Easy Gloss anche Easy Gloss fa sta cosa qua quindi secondo me bisogna stare attenti su queste cose comunque lo proverò e vi farò sapere adesso lo apriamo vediamo un po' com'è ah è abbastanza denso speravo fosse più liquidino invece è proprio denso ricordo un po' il rock gloss che io non mi trovo bene quindi però questo ho letto che si può stendere cioè il rock gloss si deve stendere in maniera corposa mentre questo ho letto che si può stendere anche in maniera un pochino più più sottile non lo so lo utilizzerò e vi dirò e lui mi sa che costa come tutti gli altri gloss che sinceramente non so non mi ricordo quando è che costano vediamo se lo trovo comunque in tutti i modi potete andare sul sito di passioneunghie www.passioneunghie.com e trovate tutto acqua gloss 11,99 ok adesso faccio una bella mucchia di scatoline allora qua abbiamo i colori ho preso questo giro un bel po' di colori tra l'altro questo mi premeva dirlo che non è non ci sono le novità di marzo qui perché l'avevo fatto prima che uscissero quindi pensatemi da quanto è che ho questo ordine da questo pacco e quindi non ci sono le novità di marzo adesso probabilmente non so tra quanto farò un altro ordine e prenderò perché ci sono quelli colori che mi interessano che sono usciti a marzo e poi devo comprare degli altri acri gel visto che mi sto trovando così bene con questo sistema di acri gel e quindi ne volevo comprare degli altri quindi probabilmente tra un po' farò un altro ordine e vi farò sapere dipende quanti soldi mi rimangono dopo il Cosmopro naturalmente allora Corallo Corallo è un classic dopo comunque ve li stendo poi ve li faccio vedere alla fine adesso ed è questo arancione molto bello i colori di passione unghie non derudono mai comunque possiamo vedere come si stendono perché non tutti si stendono bene questo è Corallo e questo è aranciato molto molto bello adesso andando incontro all'estate incontro all'estate insomma prima c'è la primavera qua da me ancora l'inverno non è finito quindi comunque insomma è un colore che viene utilizzato tra l'altro le unghie un po' troppo prima avevi infatti me ne hanno detto tutti però oramai mi andava di farle così questo è Ultra Violet che è il colore che è uscito a febbraio nuovo adesso io i prezzi dei colori non ve li sto a dire perché sennò devo cercarne uno a uno comunque vanno più o meno dai in realtà qua sto vedendo che qua si dai 3,99 4,99 a 5,99 quindi dai 4 ai 6 euro più o meno Ultra Violet che è molto bello l'avevo visto e mi ero dimenticata di comprarlo e tra l'altro questo ho visto nel sito di Passione Unghie deve essere molto molto bello con il soft touch questo è Ultra Violet adesso in camera sembra più scuro in realtà non è così scuro comunque bello anche lui poi King King è un rosso oh si è trasudato adesso mi sporco è un bordo molto bello mi mancava un bordo così a me molto molto bello adesso perdonatemi mi devo pulire se no sporco dappertutto ok poi lilla flash e questi sono i glitter che mi piacciono tantissimo che somiglia un po' argento flash visto che argento era un lilla no questo è più viola bello molto 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 adesso vado veloce se no è un video troppo lungo verde petrolio è un classic lui ed è lui bello anche questo mi dispiace perché sembrano più scuri in camera in realtà anche questo è più chiarino non è così scurone non so come non so perché ma poi bon bon fragola che bel nome classic secondo me gli ho messi dentro a caso sti colori al carrello wow peccato che sia trasparente mi ha voglia di mangiarlo è bello però è trasparente quindi ci vuole una base sotto qua per forza non è un gran non è una di quelle che io utilizzo molto con i trasparenti oh oh scusate poi amaretto classic ed è lui bello no vabbè è lui questo color cacchina tipo me non è male io se non faccio danni non sto bene sappiatelo ok allora oh mamma mia nobile nobile è uno degli ultimi mi sembra e wow questo è bellissimo assomiglia un po' a dopo poi quando ve li stendo vi faccio vedere che assomigliano già di posti lunghi questo ce n'è uno che ci assomiglia già molto che io ho non mi ricordo come che si chiama comunque dopo lo facciamo questo video di raffronto questo si chiama grappe fruit grappe fruit questo è un fast wow questo è bellissimo marron bello questo bello bello questo aranciato brillantinoso molto molto bello oggi va così ok 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 andiamo avanti allora acrygel olfiatone altri colori allora finiamo i colori si ho fatto una bella scorta di colori a sto giro oro bianco scusatemi wow bello questo che tra l'altro ho letto nel gruppo che hanno tolto i i com'è che si chiamano gli optical che erano fantastici quei colori e li hanno tolti della produzione io visto che li uso tantissimo quando finiranno non so come farò però sono molto più belli di questo cioè questo è bello però gli optical era la fine del mondo e non so come farò quando li finirà vabbè poi alba anche questo è un colorino un po' così assomiglia amaretto dopo che quando li stendo vi faccio vedere meglio ah questo c'è anche dei micro brillantini bellino ecco scusate allora ha dei micro brillantini che sono quasi impercettibili comunque c'è li ha poi abbiamo ribes wow questo è bello molto molto bello questo colore corallo bello poi ho fatto veramente una gran scorta di colori tantissimi ombra direi che è un grigio se riesco a aprirlo è un viola un lilla sembra un po' smokey violet bellino poi diana mi sembra che sia un colore chiaro no si è un marroncino bellino desire fast questo è trasudato bello questo rosso un po' corallo anche lui ok questo è un fast quindi è molto pigmentato poi malibu classic bello questo molto molto bello questo opaco deve essere pauroso con il soft touch ecco malibu poi gli ultimi due abbiamo graffite che è anche più un classic bello questo blu grigio un grigione un blu vediamo se riesco bello è un blu si un blu scuro e poi abbiamo Beatrice che è questo bello anche lui sembia un po' a Eva devo prendere anche quelli nuovi di nome di donne così che sono molto belli li proverò poi allora ho visto che c'è un'altra scatolina di colore ormai finiamo tutti i colori e poi dopo invece vi faccio vedere le altre cose che ho preso comunque la maggior parte di questo ordine era appunto colori allora vediamo un po' il tango il tango mi sa che ce l'ho già si ce l'ho si sono quasi sicura di averlo ma io come chi ormai mi segue sa che faccio sempre degli ordini con delle cose che già ho poi Daphne è questo molto bello sembra un po' Malibu più scuro ecco forse questo è quello che pensavo che fosse una figata opaco è lui molto molto bello romance bello questo guardate che figata bello bello adesso mi toccherà utilizzare tango dovrò tipo dire no usiamo tango a tutte perché ne ho due scatoline due usorotti chianti mi sa che anche i chianti ce l'ho già oh mamma mia no oh sì non lo so non lo so di tutte le volte ci dovrei guardare ma ne ho talmente tanti che non mi va mai di guardarci quando li ordino e queste chianti allora diciamo che un po' ne abbiamo presi poi vediamo questo non so cosa possa essere ma direi che qua ce n'è uno in solitaria forse un colore anche lui passiamo alle altre cose ce l'ho flash ah bello questo giusto giusto guardate che bello che è bellissimo questi flash qua li adorano li ho presi praticamente quasi tutti a parte i verdi e gli aranciati e gli oro che c'è solo ne ho preso solo uno perché non aveva senso ecco ok allora poi vediamo un po' intanto il romaggio sempre quel cavolo di palline del cavolo che non sopporto che ormai venne ammalate le due colori e io non le posso soffrire perché tanto non le utilizzo mai ma vabbè poi ho preso questa qua che è praticamente la spatolina per andare a pulire le punte delle frese della fresa scusatemi e adesso vediamo un po' se funzia vedete è molto molto dura chi ne sa questa che è l'unica che ho ancora montato su vediamo un po' cioè tipo andando a fare così si dovrebbe pulire la punta si in effetti si pulisce fantastico bene anche perché molto ce l'ho proprio incrostata quindi almeno riesco a pulirle utile poi sono arrivati questi fogli pretagliati adesivi che sono le striscioline che praticamente vanno da delle misure più piccoline a delle misure più grandi medie e poi anche grandi per fare per te presente ho visto molte foto con proprio la striscina così argento in fondo molto carina e allora ho deciso di prenderli ci sono anche oro però li ho presi argento sono molto flash però li proverò poi ho comprato questo pigmento per l'antartica che questo penso che vada applicato nello stesso modo sulla dispersione di ultra gloss che comunque lo proverò e poi vi farò vedere e perla boreale che lui tira più all'azzurro rispetto a quell'altro che invece tira più al rosa comunque vi farò vedere meglio quando li stendo poi ho preso questo che è color paper che volevo quegli altri quelli bianchi ma erano finiti tipo sugar derry mi sembra che si chiamassero ma erano finiti naturalmente e quindi ho preso questo ok vediamo un po' comunque molto bello molto molto belli questi brillanti di neri e anche questi li proverò poi vediamo un po' qua dentro cosa c'è e mi sa che ci sono dei semi permanenti esatto ok e sono questi allora ho preso l'SP50 Joker aio madonna io non li supporto queste chiudere qua che l'hanno fatta proviamo con queste madonna mia mi taglia prima della fine mi taglia ok allora Joker che è questo fucsia bellissimo bello questo per l'estate molto molto bello diciamo che si mi sono abbastanza innamorata adesso mi prima niente di passione unghia mi piacciono poi Mystery SP08 che è questo colore qua molto carino dalla camera se mi ha piaciuto in realtà è un pochino più spento assomiglia un po' orchidea quello il color gel color di passione unghia poi Marilyn ce l'abbiamo fatta a prendere Marilyn che era quello che pensavo di aver preso l'altra volta in realtà ho preso quello che già avevo ovvero lipstick ed è lui molto bello questo è proprio rosso rosso questo è il rosso classico comunque appena venire stendo vi faccio il raffronto con gli altri quindi non so quando è che caricherò questo video perché da poi se no tutti quei colori ci metterò una vita e mezzo ma vabbè e poi l'ultimo che è madama e guardiamo un po' mi scuso per il sottofondo ma c'è il tecnico dell'antenna giù di sotto quindi sentirete un po' di brusino ma ormai avevo iniziato il video e non mi eravo di non farlo e questo è madama bello questo beige molto carino ok questo è poi per quanto riguarda invece l'acry gel vi faccio vedere quello che ho preso ho preso il milky che è lui e vediamo insieme la colorazione comunque si eccolo si vede già da qua guardate che bello comunque adesso lo andremo quando vi farò comunque il refill dell'ungli così andiamo a utilizzare questo così ve lo faccio vedere meglio comunque ne prendo un po' per farvi vedere un po' com'è no bellino è molto chiaro e niente questo è ok per ora vi saluto poi dopo stenderò i colori e penso che unirò quella parte di video a questa perché così almeno avete tutti insieme e niente quindi ci vediamo tra poco ok allora ho steso i colori ve li faccio vedere iniziamo da lui aspettate che ho un po' di confusione ok lui è Daphne C54 poi Ultraviolet C112 molto bello anche lui poi poi oh mamma mia Alba C107 poi abbiamo Amaretto che è il C103 un pochino più scuro di Alba questi ve li faccio vedere dopo Beatrice C108 poi abbiamo ah no questo è un scusate un semi permanente ve li faccio vedere dopo con calma abbiamo Ribet questo è il C101 poi questo è un semi questo niente scusate che ho raffazzonato tutto così questo è Bonbon Fragola che è questo glitter molto molto bello ed è il G30 e questo qua però si sotto necessita sicuramente di una base però è molto molto carino poi abbiamo Romance che è l'F60 questo rosso un po' corallato assomiglia un po' a Ripes ve li faccio vedere è un pochino più più scuro però insomma si assomigliano abbastanza poi abbiamo King F77 che è questo bordo molto molto bello ombra C98 poi verde petroglio C09 questo è un semi permanente questo niente poi abbiamo Desiree che è l'F62 che lo possiamo mettere qui perché assomiglia si cambiano di poco questi tre colori si nota anche in telecamera più chiaro medio un pochino più scuro ma più o meno sono tutti lì sono semi permanente poi abbiamo un nobile che è il C102 che è molto bello ok poi Malibu C08 Grapefruit che questo è bellissimo secondo me ha un po' di brillantini anche ed è l'F40 Diana C110 C10 Chianti C01 bello anche lui un pochino più chiaro di King si si vede poi Corallo C25 bellissimo e Corallo assomiglia molto a Ribes è un pelino più diciamo che questi quattro colori non so se li potete vedere bene dalla telecamera si assomigliano molto sono tutti della stessa più o meno sulla stessa linea il più chiaro di tutti è Corallo poi c'è Ribes Romance e Desiree però insomma sono più o meno tutti lì poi abbiamo Graffite che è questo blu scuro e poi abbiamo i brillini che abbiamo oro bianco che è il G08 lilla flash che è il G55 e cielo flash che è il G50 molto molto belli soprattutto questi due sono bellissimi secondo me bene e quindi questo è per quanto riguarda i colori allora ho notato delle somiglianze ve le volevo far vedere in realtà non sono neanche andata a vederle io mi sono venuta in mente quando ho stessi i colori allora vediamo un po' per esempio si nobile potrebbe assomigliare no in realtà è più chiaro vintage rosa me l'ha venuta in mente lui ma in realtà è più chiaro si intende più al bianco questo quindi ok loro potrebbero assomigliare a punch che è lui no in realtà è un pochino differente si direi che delle grosse somiglianze non ce ne sono alba assomiglia molto a nudo solo che alba ha brillantini ha il suo in mente in realtà dalla telecamera sembra che assomigli più a mare in realtà assomiglia più a alba però alba ha più brillantini e poi e poi e poi ah non vi ho steso tango perché già ce l'avevo steso quindi non sono stata a ristenderlo adesso il massimo ve lo faccio vedere qui che è qui è lui tango che è f63 è questo rosso con un po' metallizzato bello e un'altra somiglianza che mi era venuta in mente era era ah il ombra con smoky violet che dov'è non so più scusate ah è qua no era il smoky violet è più chiaro con ombra si può vedere si lo vedete ok e verde petroglio con bottle green no in realtà no gli altri due verdoni che ho sono questi due ma diciamo che lui è una via di mezzo ecco questi sono i colori per quanto riguarda i gel che avete visto prima poi invece i semi permanenti abbiamo joker che è l'SP50 questo fucsia molto molto bello poi marylyn finalmente se l'ho fatta prendere un rosso rosso SP18 poi madame SP104 scusate 04 e oddio misteri che è l'SP08 ok questi sono i semi permanenti poi un'altra cosa che ho steso e ci tenevo a farvi vedere sono le polverine allora le polverine erano due erano perla boreale e pigmente no pigmente aurora quello vecchio che vi faccio vedere anche perché l'ho steso così almeno lo raffrontiamo perla artica e perla boreale sono molto molto carine entrambe perla boreale da più sul rosa e invece perla artica più sull'argento sono molto belline avevo steso anche pigmento aurora che è lui e secondo me assomiglia molto molto a perla boreale questo forse è più uniforme e questo un po' meno si vedono un pochino più le le macchiette su questo qua l'ho steso nello stesso modo quindi penso che dipenda dal prodotto però insomma assomiglia molto quindi non vi consiglio se avete già uno non vi conviene comprare l'altro ecco è una cosa un po' in più e questi sono sul bianco su base bianca su pure white ho messo ultra gloss 30 più 5 secondi in futura e poi ho dato una polverina con il pennello o in silicone o il pennello per l'ombretto ecco un'altra cosa che ho fatto perché l'altro giorno in autobus ho visto una ragazza che aveva delle unghie blu con questi effetti bellissimi me ne sono innamorata allora volevo provare a ricrearlo ho messo blu infinito perché è un blu un po' trasparentino ve lo faccio vedere sulla tip non l'ho preso da tanto adesso appena trovo la rotella con gli ultimi gli ultimi colori qua ok ed è lui blu infinito vedete vedete è un po' trasparentino ok quindi ho messo quello e poi dopo sono andate a mettere le polverine sopra e allora devo dire che l'effetto che più l'ha ricreato secondo me quello che avevo visto io è questo qui quindi blu infinito più perla boreale si vede qua ecco un pochino di più la differenza tra perla boreale e pigmento aurora perché pigmento aurora risulta un pochino più coprente rispetto a perla boreale che in realtà è un pochino lascia un pochino più vedere il colore sotto anche con perla artica è molto bello però vira più sull'argento invece quello che avevo visto io viravo proprio sul sul verdino quindi diciamo che mi piace di più questa opzione e quindi questa è la differenza tra le altre tre polveri e poi ho steso anche il colorate pepper che erano quei brillanti che avevo preso su base nera sono molto molto carini anche loro e niente quindi questo è quanto e ci vediamo nel prossimo video ciao a tutte ragazze